Qua siamo in località Bald le masche, poi vi racconterò cosa sono le masche da queste parti da qua di là si va alla croce Moncuni c'è un sentiero un po nelle balle perché hanno costruito una casa in mezzo bisogna passare tutto sulla destra andare su si va sulla croce invece di qua si scende ad Avigliana e si arriva in via Chiattera adesso ci facciamo questa di là si va alla ps4 il cosiddetto swish Questa non è massimo discesisticamente parlando però è molto scorrevole e carina per un giro serale dopo lavoro è ideale di mettermi alla schierina vabbè Ah albe scusi ricordatevi di dare sempre la precedenza Slippi a door on it. Grazie a tutti. Noi qua siamo arrivati in via Chiattera, penso che si chiami così. Ora, ovviamente il com su Strava non ce l'avrò mai perché ho degli amici simpatici che appena qualcuno lo abbassa lo vanno ad abbassare di nuovo, però mi diverto lo stesso. Giro nel lago. Non vuoi finora, che bello! Oh! No. No. Grazie a tutti